Quando riparte può far male, era tutto quello che si aspettava, le chiedo un'analisi invece oltre che sulla partita sull'atteggiamento della Juventus tra il primo e il secondo tempo perché abbiamo visto due squadre completamente diverse. Prima cosa una partita si gioca durante 95 minuti, è normale che sia nel primo tempo una squadra avere più energia e sì l'ho detto ieri e ribadisco una squadra che sta bene e l'Empoli, una squadra che sa difendersi molto bene, anche delle volte invitando l'avversario a venire in attacco per poi dopo ripartire e contraattaccando creare difficoltà alle squadre avversarie. Oggi alla fine abbiamo permesso uno evitabile dove noi non dobbiamo concedere, abbiamo creato poco come abbiamo creato, non abbiamo preso gol, è chiaro che il risultato oggi non è quello che volevamo, veniamo qua come tutte le partite, giochiamo per vincere ma la strada che dobbiamo proseguire è quella lì, continuare a giocare, continuare ad attaccare insieme, creare occasioni e avere questo equilibrio per non permettere a una squadra come l'Empoli oggi di, contraattaccando o creando poco, avere un vantaggio. Abbiamo visto tante facce nuove e quindi meccanismi di gioco per trovarli, insomma è sempre complicato, poi abbiamo visto addirittura quattro cambi contemporaneamente al secondo tempo, da chi è subentrato si aspettava qualcosa in più? Ma si troveranno bene tra di loro perché sono grandi giocatori, i grandi giocatori già in allenamento ma anche fuori dal campo con poco tempo riescono a capire cosa vuole uno, cosa non vuole uno, come comportarsi dentro e fuori dal campo, creare un gruppo solido. I quattro che sono entrati sono entrati per dare un po' più di freschezza alla squadra con gli stessi compiti che avevano quelli che stavano dentro, non abbiamo cambiato niente nella parte tattica sino a dare continuità a quello che si stava facendo perché si stava facendo bene arrivando insieme. Ripeto, sicuramente questi grandi giocatori che abbiamo insieme dentro al campo cresceranno, miglioreranno individualmente ma soprattutto sono sicuro che collettivamente. Buonasera mister, una Juventus dal mio punto di vista oggi sottotono, saranno Juventus molto diversi a martedì? Oggi è una partita, martedì è una partita completamente diversa, è la prima cosa. Non sono d'accordo con lei che era sottotono, ho visto la mia squadra giocando nel modo che doveva giocare oggi contro una squadra, ripeto, che sta molto bene come l'Empoli e adesso continuare. Lasciamo nel passato già questa partita di oggi, dare continuità alle cose che si è fatta bene e migliorare tante altre che possiamo farlo e pensare alla partita di martedì. Buonasera mister, Samueltapest e Sportpaper. Volevo chiederle un giudizio sulla prestazione di Pier Caluru. È la prima partita che ha fatto la titolare, si è parlato molto di questo giocatore, c'era anche chi metteva in dubbio addirittura la sua integrità fisica e oggi ha giocato addirittura tutta la partita. Grazie. Non c'è nessun dubbio sulla integrità fisica del ragazzo che sta molto bene. Si allena sempre. Oggi ha fatto un'ottima partita. con il poco tempo che si è inserito nel gruppo ha fatto un'ottima partita. Capisce subito perché ha già fatto questo ruolo nel Milan e l'ho visto molto bene oggi in partita. Recuperarlo e pensare a recuperare tutto il gruppo, le squadre, preparare bene per la prossima martedì. Grazie. Ciao mister, sono Mario Gago di Radio Onda Cero di Spagna. Le faccio la domanda in italiano, che se può rispondere in italiano poi al fine se può fare un brevissimo racconto anche in spagnolo per la gente di Spagna che anche le può sentire in spagnolo. Le chiedo quanto ha influito, che sia la prima partita di titolare e di tanti interpreti al centrocampo. Sei contento con questa prima partita con me? Tutti insieme in questa nuova Juventus, diciamo, al centrocampo? Sì, sono contento. Torno a dire quello che ho detto prima. Questi grandi giocatori, quando si mettono insieme, sono convinto che velocemente riescono a capire prima cosa come dobbiamo giocare come gruppo, come squadra, però poi mettendo la loro caratteristica, la loro qualità, sia fisica, tecnica, mentale, a beneficio del gruppo, che il gruppo possa funzionare, che la squadra possa funzionare, ognuno nel suo ruolo. Adesso hai parlato di centrocampisti, oggi Manu, Douglas e Kefren e Coppa hanno fatto bene, quelli che sono entrati sono entrati bene. Abbiamo la fortuna di avere tanti giocatori forti e capire il momento loro, capire le partite che andremo ad affrontare, capire il momento della nostra squadra e cercare di fare le scelte giuste per il bene della squadra. Il nostro, Dias Totti, quello che mi ha spiegato, ma se è dentro del campo la Juventus Nuova, quanto potrebbe essere il primo partito? Intenta migliorare? Per migliorare, si può migliorare sempre. del gruppo, per levantare il valore della squadra, dell'equipo, sia individualmente, ma soprattutto colettivamente, perché questo si gioca in 11 giocatori, 11 contro 11, e gli 11 che sono migliori in campo, sia defensivamente o ofensivamente, hanno un vantaggio con l'equipo avversario. E perdon per il mio spagnolo, perché mi è perdito un poco. Buonasera, mister. Paolo Ottavio Rifantapaz. Un giudizio sulla prova offensiva di Vlaovic, che a volte è sembrato molto isolato lì davanti, perché su alcuni cross sembrava l'unico in area di rigore e sono mancati gli inserimenti dei trequartisti. D'accordo? Siamo arrivati poco a fare il cross che dobbiamo fare, perché un conto è fare il cross da dietro e un conto è arrivare in una zona pericolosa per fare il cross. È chiaro che oggi, contro una squadra che si difende e si difende una linea di 5 giocatori, non è facile arrivare a quelle posizioni lì. Abbiamo avuto difficoltà oggi ad arrivare. Però sicuramente quando arriviamo in quel momento lì non solo Dusan deve riempire l'area di rigore, non solo Dusan deve attaccare l'area di rigore, siano tanti altri. Il problema è che oggi abbiamo avuto difficoltà ad arrivare in quella zona pericolosa per fare il cross. Il cross, da dove abbiamo fatto, e gli altri giocatori non hanno nemmeno il tempo di arrivare nell'area di rigore avversaria. Siamo arrivati più sugli inserimenti interni o sulla profondità, dove loro delle volte hanno lasciato o il nostro attaccante ha creato. Però sicuramente sui lati dobbiamo arrivare anche giocando con una squadra difensiva che giocano a 5 e arrivare a alimentare non solo il nostro attaccante ma se no agli altri che arrivano da dietro. Buonasera, Ministro Filippo Cornacchia alla Gazzetta dello Sport. Ti volevo chiedere questa cosa qua. Nelle prime due partite avete segnato in tutte e due tre gol e tre gol. Adesso in due partite zero in tutte e due. È solo una coincidenza. Cos'è cambiato? Anche perché in mezzo c'era stata la Roma che uno poteva dire anche molto differenza di Rosa rispetto alle prime due. L'Empoli magari più vicina alle prime due squadre che avete affrontato. E legato a questa ti volevo chiedere in Champions si dice sempre perché è molto importante segnare. Si è preoccupato o per questo diciamo tra virgolette mal di gol in vista della Champions? Ogni partita come dico sempre è una partita diversa. Le due prime che abbiamo affrontato già lì sono state partite diverse molto diverse una con l'altra vuol dire coincidenza poco. Le altre partite la dopo con la Roma è stata un'altra partita completamente diversa oggi è stata un'altra partita completamente diversa. E martedì sarà sicuramente una partita diversa con una squadra che gioca bene a calcio una squadra che rischia perché si apre attacca e noi essere bravi a controllare il gioco controllare il gioco giocando in casa controllare il gioco non permettere a questa squadra di sentirsi comoda che quando ha la palla e viene ad attaccare con 5-6 giocatori e noi essere capaci di avere noi la palla e andare insieme ad attaccare il PSV che è una buonissima squadra però vedo coincidenza poco perché ripeto in ogni partita è una storia completamente diversa. siccome ogni partita è una storia diversa non c'entra niente vedremo la prossima come affronteremo il PSV come faremo in modo di ripeto di non permettere all'avversaria controllare il gioco e sentirsi comoda nel campo come a loro gli piace e portare sicuramente cercare di portare la partita dalla nostra parte. Lamba Repubblica buonasera so già che mi risponderà di no ma gli lo chiedo lo stesso perché 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 sai già che no però lo chiedo lo stesso perché uno chiede per sapere in questa squadra ci sono pochi giocatori che hanno già giocato la Champions può essere che il pensiero di debuttare martedì in questa competizione in qualche modo abbia condizionato qualcuno perché effettivamente la cosa è hai ragione ti do la ragione no no ti do la ragione grazie grazie